Vi ricordate questa scena? Probabilmente tanti sì, qualcun altro no. Tre mesi fa noi abbiamo lanciato un video, abbiamo lanciato un messaggio al paese intero, esattamente in questa posizione, in questa stanza, soltanto che adesso qualcosa è cambiato, siamo molti di più, siamo migliaia in tutto il paese. Tre mesi fa questa bandiera non c'era, oggi Potere al Popolo è una comunità, è un popolo che si sta riorganizzando e che sta lanciando un messaggio di speranza, una sfida su cui non avrebbe scommesso praticamente nessuno e che adesso però invece è una realtà. Adesso mancano pochi giorni alla fine di questa tornata elettorale che abbiamo visto come hanno provato in tutti i modi prima a ignorarci, poi a combatterci, ma quello che si è creato sui territori, quello che la forza di centinaia, di migliaia di persone tutti i giorni impegnate a diffondere il messaggio a creato ormai non si può più fermare e lo sanno bene. Questi ultimi giorni però richiedono il massimo impegno. Abbiamo da dimostrare ancora una volta di dover parlare con amici, parenti, colleghi, di mandare questo messaggio di speranza, di entusiasmo, perché quello che si è mosso per la prima volta in questo paese dal basso può veramente fare la storia. Quindi vi invitiamo ancora una volta, questi giorni portiamo avanti i nostri corpi, mettiamo gambe e braccia per strada come abbiamo già fatto, perché abbiamo gambe solite adesso per continuare a camminare e per non fermarci più, oltre il 4 marzo, per riprenderci questo paese e cambiarlo finalmente. Potere al volo! Viper al volo! Grazie! Grazie! Grazie a tutti.